ActionAid, ad un mondo in cerca di spettacolo e competizione, preferisce un mondo senza povertà, mancanza di diritti e in cui nessun bambino soffre la fame. Con l'adozione a distanza di ActionAid puoi garantire a un bambino del sud del mondo e alla sua comunità accesso a cibo, acqua, istruzione e cure mediche. Tutti possiamo vincere, nessuno escluso.